In questo video ti mostrerò il processo per invitare i tuoi amici a unirsi al Revolut. Una volta all'interno dell'app, individua le tue iniziali nell'angolo in alto a sinistra. Cliccandoci sopra, naviga fino alla sezione Invita Amici. Selezionando questa opzione, avrai accesso a una lista di ricompense e vantaggi legati all'invito di amici. Per ogni amico che riesce a introdurre con successo nell'app, riceverai 60€ come premio. Cliccare su Invita Amici presenta due scelte. Puoi inviare inviti direttamente ai tuoi contatti o utilizzare l'opzione Condividi. Se opti per quest'ultima, potrai scegliere il tuo metodo preferito di condivisione. Questo include la copia del link permettendoti di condividerlo comodamente su piattaforme di social media o di inviarlo ai tuoi amici. Se è trovato utile questo video, iscriviti al canale e lascia un bel like. Grazie a tutti i nostri amici.